Disastro ambientale, colposo e abuso d'ufficio. Sono queste le ipotesi di reato contestate a sette persone, tra dirigenti della Regione Calabria e imprenditori, nell'ambito di un'attività condotta dalla Guardia di Finanza di Vibo Valencia, che ha portato al sequestro preventivo delle opere complementari del cantiere del nuovo ospedale, disposto con un provvedimento firmato dal procuratore Camillo Falvo e dal sostituto Aliberti. I finanzieri hanno sottoposto al sequestro preventivo i lavori di sistemazione idrogeologica del Fosso Calzone e della raccolta delle acque bianche complementari ai fini della realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valencia. Le opere, finanziate con il Fondo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso Calzone, qualificate dalla Regione Calabria come strumentali alla realizzazione del nuovo nosocomio, non solo non sono risultati inerenti l'oggetto per il quale era stato stanziato il fondo, ma hanno addirittura aggravato, come certificato dalla perizia richiesta e ottenuta dall'autorità giudiziaria, il rischio idrogeologico. Le persone indagate sono Domenico Pallaria, 61 anni, direttore generale Dipartimento Infrastrutture della Regione in qualità di RUP, Pasquale Gidaro, 53 anni, responsabile della struttura tecnica, Alessandro Andreacchi, 57 anni, direttore dei lavori, Pierrenzo Olivato, 66 anni, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Imprese, Vibo Hospital SPA, concessionario dei lavori, ed ancora Giacomo Procopio, legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori Costruzioni Procopio SRL, Massimo Procopio, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vibo Hospital Service SPA e direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori Costruzioni Procopio, Luigi Zinno, 66 anni, soggetto attuatore dell'ufficio del commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria.